Il Comitato per il Centenario di Lorenzo Milani porta a Firenze il convegno pastorale. Dovrebbe essere l'ambito in cui riflettere sulla figura della fede, della spiritualità, della ricerca teologica e catechistica di Lorenzo Milani, come stato parroco, come stato presbitero della Chiesa Fiorentina. Le testimonianze e le riflessioni sono innumerevoli, avremmo potuto inserirne ancora di più, per testimoniare la grandissima ricchezza di questa figura riletta a distanza di cento anni e in qualche modo anche però la ricchezza della stessa Chiesa Fiorentina, quanto attratto dal suo esempio, quanto abbiamo riflettuto, quanto abbiamo vissuto, pregato, celebrato e operato in nome appunto del Priore di Barbiano.